Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In primo piano la politica a rush finale per i candidati alle imminenti elezioni di domenica 26 maggio. Sarà questa una settimana intensa per tutti per riuscire a racimolare ogni voto possibile. Molta l'attesa per gli esiti delle regionali piemontesi dove la battaglia è più aperta che mai e dove si prevede un esito all'ultimo secondo. Ultima settimana di campagna elettorale per i candidati alle europee, regionali e comunali e questi non saranno giorni nei quali si tireranno le fila ma al contrario nei quali più che altro si stresseranno al massimo le energie rimaste per andare a rincorrere gli ultimi voti possibili. Un appuntamento importante per il Piemonte rappresentato dalle regionali dove il presidente uscente Sergio Chiamparino tenta di non mollare il suo scettro a Palazzo Lascaris, forte del prorompente elettorato in tutta l'area torinese e storicamente roccaforte del centro-sinistra. Sul resto del Piemonte, ovvero su tutta quella zona che abbraccia geograficamente l'area orientale piemontese con il Cunese, Novarese, Vercellese, Verbano, Cusi-Ossole e Albese, punti invece il candidato di centro-destra Alberto Cirio che già si era presentato nel 2014 alle europee dove finì la sua corsa con quasi 17.000 preferenze. Ma una partita importante se la giocherà sicuramente anche la Balsusa, muro di protesta contro la TAV, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e del suo candidato Giorgio Bertola. I grillini alle politiche del 2018, proprio in quella zona, registrarono numeri record con un 26,5%, una partita che si preannuncia anche una scommessa, dove gli umori dell'elettorato dei 5 Stelle nei confronti del governo centrale potrebbe fare la differenza. Infine c'è Walter Boero, candidato del Popolo della Famiglia, docente universitario, ex consigliere comunale per l'Udc, che potrebbe erodere voti sia dal centro-destra che dal centro-sinistra e che alla fine potrebbe anche fungere d'ago della bilancia dei test di serie. Una partita completamente aperta che si giocherà su diversi fronti e che potrebbe essere vinta al fil rouge con un elettorato che esprimerà le proprie preferenze in quello che sarà anche un test molto importante per chi si è dal governo. La cronaca, vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile hanno sospeso le ricerche di Anna Bottero, 57 anni, scomparsa domenica 12 maggio dalla sua abitazione di Rivalta Bormida. Dopo dieci giorni di ricerche i soccorsi non hanno dato traccia della donna, pare che si sia stata vista per l'ultima volta nella piazza del paese e potrebbe essersi allontanata volontariamente. Altre notizie ferì accoltellate il figlio di un ufficiale dei carabinieri per strappargli il cellulare. Processo inabbreviato per rapina e lesioni a un ventenne alessandrino. Emma Camagna. Il pestaggio, brutale e insensato, avvenne la sera del 9 settembre 2018 verso le 21 tra via Marsale e piazza Vittorio Veneto su cui si affaccia la caserma del comando provinciale dei carabinieri. Un ragazzo buttato a terra, preso a calci, rannicchiato sull'asfalto, cercava di ripararsi dalle pedate violente su tutto il corpo. Autore di quella violenza, Giuseppe Cidiacono, 20 anni, Alessandria, voleva impossessarsi del cellulare, che una perizia ha definito parzialmente infermo di mente. Il 18 giugno sarà giudicato inabbreviato dal gruppo Paolo Bargero per rapina e lesioni aggravate. Il PM Andrea Zito gli ha contestato la brutalità dell'assalto che mostra anche visivamente una macroscopica sproporzione fisica fra l'imputato alto e massiccio e la vittima di corporatura minuta. A febbraio, al processo in tribunale, subito rinviato per consentire la perizia psichiatrica e il giudizio abbreviato che consente una riduzione di pena, l'imputato aveva chiesto scusa alla vittima, murmurando e allungando lentamente la mano e dicendo «mi dispiace per quello che ho fatto». Il giovane aggredito, figlio del colonnello Enrico Scandone, capo del comando carabinieri, fino al giorno prima del fattaccio, nonostante i postumi fisici e psicologici, avendo rischiato di morire, gli elastrisse. Già alcuni anni prima aveva dimostrato molto coraggio, si era preso cinque coltellate per difendere un amico aggredito. Torna a Novi Ligure il tradizionale appuntamento con la festa dell'acqua, dell'ambiente e della solidarietà organizzata dal gruppo ACOS. Vediamo. Prenderà il via a Novi Ligure il prossimo 24 maggio con un flash mob di Friday for Future, la 22esima edizione della festa dell'acqua, dell'ambiente e della solidarietà organizzata dal gruppo ACOS. La Kermess di eventi, che entreranno nel vivo il 31 maggio al Parco dell'Acquedotto di Strada Cassano, con la premiazione del concorso per studenti «Ci pensiamo mai all'acqua potabile, risorsa, diritto e bene comune, le idee per tutelarla e valorizzarla», proseguirà il primo giugno in Piazza delle Piane a Novi, dove si svolgerà la 14esima festa di Ascolta l'Africa. Il 2 giugno, di nuovo al Parco Pagella Bottazzi, sarà festa con le associazioni sportive di volontariato. Parco che vivrà il 22 giugno la serata danzante Forever Young, organizzata da Animals Angel, che il 23 presenterà l'evento Code in Festa, tradizionale esposizione canina e festa degli animali. Ogni anno ci incontriamo anche con le associazioni sportive di volontariato in questo parco per passare una giornata insieme, una festa di popolo. Però è anche un modo per far partecipare, far vedere ai cittadini, a tutti noi come lavoriamo, come il gruppo ACOS lavora appunto per la gestione dell'acqua. Quindi gli impianti aperti hanno proprio questa funzione. Acqua, bene primario e fonte di vita. Quali gli interventi sul territorio? Dopo l'emergenza idrica del 2017, che aveva portato soprattutto nella zona del Novese anche condizioni non di razionamento ma abbastanza vicini al razionamento, sono partiti tutta una serie di investimenti grazie ad un finanziamento della protezione civile, quindi direttamente dal Ministero è poi gestita attraverso la protezione civile e una parte di interventi fatti direttamente da gestione acqua, quelli già fatti sono ad esempio parecchi interventi su Novi, su Tortona e è attualmente in atto un progetto abbastanza importante qua a Bettole. Rispetto dell'ambiente è declinato anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti sul fronte della raccolta porta a porta nei comuni del Novese e del Tortonese. Possiamo dire che abbiamo già un'esperienza di circa sei mesi su un buon gruppo di comuni che rappresentano circa il 30-40% degli abitanti. Altri sei comuni partiranno adesso a giugno, la Vallemme, quattro comuni dell'Alta Vallemme partiranno in settembre e a seguire partiranno poi i restanti comuni. Ed ora la premiazione del concorso di energia in energia edizione 2019 che è diventata un'occasione di grande festa e grande entusiasmo per i ragazzi delle scuole che si sono cimentati in una gara suddivisa in allievi scienziati per le secondarie di primo grado e scienziati esordienti per le classi delle scuole primarie, promosso da AMAG tra i gruppi comuni di Alessandria e Università del Piemonte Orientale. De De Vinci. La sede del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale di Alessandria è stata invasa da migliaia di allievi delle scuole primarie e secondarie che hanno partecipato a questa seconda edizione del progetto didattico scientifico chiamato Energia in Energia che è promosso da tre e-group coordinato dal Comune di Alessandria, AMAG Reti Idriche e Università del Piemonte Orientale. Il gruppo AMAG sostiene per il secondo anno questo progetto denominato Energia in Energia che vede come protagonisti circa 1.100 studenti di 19 scuole primarie e secondarie della provincia che si sono cimentati nella realizzazione di un modello di stazione energetica per cercare di familiarizzare il più possibile sul congetto di energia come fonte rinnovabile, risparmio energetico e anche come uso parsimonioso delle risorse idriche. A tal proposito AMAG ha consegnato a ciascun studente una borraccia per incentivare gli studenti a utilizzare l'acqua che esce dal rubinetto di ciascuna casa perché l'acqua che esce dal rubinetto è assolutamente potabile, è buona ed è sicura e di ottima qualità. Oggi come il 10 maggio premieremo tre scuole secondo il primo premio per quanto riguarda la presentazione, l'idea e il modello. Le tre classi vincitrici sono state la Don Minzoni di Valenza per la miglior presentazione, quella di Litta Parodi per il miglior modellino e ancora Corso Romita di Tortona per la miglior per l'idea. Musica e solidarietà insieme ad Alessandria a sostegno dell'Associazione Futura Infanzia Onlus che ha la sua sede nazionale nel capoluogo di provincia e altri distaccamenti di volontari nel nord Italia. E venerdì 24 maggio al Teatro Alessandrino saranno i favolosi anni 60 a sposare la causa di questo sodalizio di volontari, nato per aiutare e sostenere l'infanzia in grave disagio sociale. Ci sono bambini cui è stata rubata la spensieratezza della loro età, minori, vittime di maltrattamenti e allontanati dalle loro famiglie per violenza fisica o psicologica. E ci sono adulti come l'Alessandrino Oreste Guacchione, presidente della Futura Infanzia Onlus, profondamente impegnati in una serie di iniziative e progetti affinché a queste giovani vite venga restituita un poco di serenità che gli è stata negata. Futura Infanzia Onlus è un'associazione nazionale di volontariato nata nel 2003 proprio per aiutare e sostenere i più piccoli e indifesi che si trovino in situazioni di grave disagio sociale. Ci occupiamo di garantire accoglienza residenziale, assistenza sanitaria e scolastica, attuiamo percorsi di psicoterapia che possono durare anche anni, spiega il presidente Guacchione. Il nostro contributo è arrivato in più città d'Italia come Genova, Cuneo, Savona, Bologna, Ferrara, Firenze. Preziosa la collaborazione con la cooperativa Educa presieduta dallo psicologo Matteo Crivelli che è responsabile della parte medica e che in squadra con Futura Infanzia Onlus e i suoi volontari recupera minori che arrivano senza nulla e hanno bisogno di tutto, come nel caso del residenziale per minori appunto Bellevue che viene gestito in partenariato a Salice Terme. E ora Futura Infanzia Onlus che attraverso eventi musicali e teatrali raccoglie fondi e acquista anche apparecchiature per i reparti di neuropsichiatria infantile di diversi ospedali o contribuisce a curare i minori in Italia e all'estero, si cimenta in una nuova avventura. Per la prima volta, il prossimo 24 maggio, invita tutti ad Alessandria per un concerto di beneficenza intitolato Una generazione di poeti, canzoni e sorrisi dei favolosi anni Sessanta. Sul palco del Teatro Alessandrino dalle 21 saliranno alcuni cantanti in auge negli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e che, tuttora attivi sul territorio nazionale, hanno fatto la storia della musica italiana. Presentati dal torinese Roberto Ferraro, amico dell'associazione, saranno i nuovi angeli The Rockies, Dino, Donatello e Giampieretti a far sognare e cantare il pubblico per una buona causa. Siamo tante gocce che fanno il mare, ha detto il Presidente, e gli artisti che si esibiranno venerdì sera ci aiuteranno a riempirlo, grazie alla forza della musica. Parliamo di altri bambini, una trentina, quelli che ieri nella casa delle donne di Alessandria hanno ascoltato fiabe gender raccontate da due drag queen, un'iniziativa questa che ha creato un ampio dibattito sulla tematica della differenza di genere proprio nella città che il prossimo primo giugno ospiterà il suo primo Pride. Sentiamo. Raccontare la differenza di genere ai bambini attraverso uno strumento semplice, quali sono le fiabe gender. Ad Alessandria l'hanno fatto Carla Stracci, alias Mary Poppins, e Vera Aloe, nei panni di una fata turchina che ha commentato, orgogliosa, il senso di ciò che è stato proposto nel capoluogo di provincia. Una notizia, quella rimbalzata agli onori della cronaca nazionale che ha diviso l'opinione pubblica e che ha lasciato fuori i giornalisti e telecamere dalla casa delle donne, che su organizzazione del collettivo Non Una Di Meno ha visto le due drag queen in prima linea negli spazi dell'ex asilo Monserrato. In questo momento noi siamo truccate e siamo diverse da come viviamo in realtà, siamo due maschietti che hanno una vita molto comune, lui è un avvocato, io lavoro in un bar e poi in una libreria, che per spettacolo, perché questo è un vero e proprio spettacolo di intrattenimento, si trasformano in drag queen come può essere Platinette, mi viene in mente dico lei perché è nota in Italia e per cui noi portiamo divertimento e portiamo allegria con una nota di colore e insomma se vogliamo chiamarla diversità perché no diversità, laddove secondo noi la diversità è un bene comune. Favole semplici e chiare ha specificato Vera Loe, madrina del prossimo Alessandria Pride in programma al primo giugno, che dovrebbero essere lette prima dagli adulti e che spiegano ai più piccoli il concetto di famiglia gender. E così le favole piccolo uovo o nei panni di Zaf rilanciano messaggi d'amore, di inclusione e di tolleranza universale che secondo le drag queen sono l'unica cosa di cui ha bisogno il paese Italia. Pazienza se il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco non ha concesso, come nel caso della manifestazione del prossimo primo giugno, il gratuito patrocinio. La manifestazione, promossa dal collettivo non una di meno, ha puntualizzato il primo cittadino, non risulta essere inserita all'interno del programma di Alessandria Pride e il gruppo in questione, ha aggiunto, ha abusivamente occupato un immobile, l'ex asilo Monserrato appunto, di proprietà di un istituto di beneficenza. Siamo alla pagina sportiva con la splendida vittoria ottenuta sul neutro di Sestri Levante contro il Genoa grazie ad una rete della Levis. La novese femminile ha riaguantato quella serie B dalla quale era stata esclusa lo scorso anno a causa della riforma dei campionati. Del successo delle Bianco Celesti ci parlerà fra poco Fabrizio Mattana nella pagina sportiva, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime.